Durante la mia assenza l'edificio era stato conquistato dai soldati di Mobius. Non avessero ancora trovato l'ingresso della cripta, ho scoperto il corpo di Janos. Di voi c'era traccia. Raziel, l'eroe conquistatore. Credo che ci dobbiamo rallegrare. Cain, finalmente, è morto. Forse anche tu aspetti congratulazioni per la morte di Vorador, o ti è sfuggito? Ce l'abbiamo, anche se il prezzo di sangue è stato alto. Lui ne sarà lieto. Sì, l'idea lo allieterà, finché non gli verrà tagliata la testa e ogni vampiro di Nosgoth sarà morto. E tu sei lieto di questa consapevolezza? Anche tu andrai a morte. Per un vero servitore dell'unico Dio, la morte non è mai amara. Ci andrò in pace, sapendo di avere avuto la mia piccola parte nei piani del nostro Signore. Cain è finalmente distrutto, e tu ne sei l'artefice. Che eroe pensi di essere ora? Il salvatore dei vampiri o l'altro? Non hai ancora capito che per noi era irrilevante quale dei due tu credessi di essere, pur che l'esito fosse lo stesso. E ora... Cain è morto. Non ti ringrazierò mai abbastanza. Allora è stato tutto concertato, ogni mossa. E Cain credeva che io avessi libero arbitrio. Oh, tu ce l'hai. Ed è questo il trionfo più grande. Avere spinto l'unico attore che poteva scegliere a fare esattamente ciò che ci serviva. Ottimo lavoro. Fedele servitore. Ora... Devo assistere a un'esecuzione.